Dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino. La morte è nomade, è un noir, un romanzo che ha delle venature thriller molto forti ed è un romanzo che mescola bene, affresco socio-politico, che racconta un mondo, la Mongolia, adesso ci arriveremo. Il romanzo mette in scena un grande personaggio, un commissario che conosceremo meglio attraverso la viva voce di Almanouk, che è francese ma se la cava abbastanza bene con l'italiano, ed è anche un romanzo con momenti di umorismo abbastanza, devo dire, marcati, forti, ma anche con momenti di violenza, estremi, e sullo sfondo di questa nazione di cui non conosciamo nulla, di cui non sappiamo nulla, che è la Mongolia. Una terra antica, con rituali antichi, una terra però anche con molte ricchezze nel sottosuolo, quindi con molti saccheggi in atto da parte delle multinazionali, da parte di chi vorrebbe sfruttare il sottosuolo di questo grande paese, ma anche una terra che ha uno strano legame fra i vivi e i morti. E mi sembra che proprio su questo confine Almanouk abbia scritto pagine molto importanti, diciamo, all'interno di La morte nomade. E allora, sono tante le domande che io voglio fargli. Quindi, la prima domanda è questa, cioè siccome lui non è soltanto uno scrittore, un editore, ma è anche un viaggiatore, perché proviamo a entrarci piano piano in questo romanzo, visto che è la prima volta che ci approcciamo a uno scrittore che magari non abbiamo mai letto e che non conosciamo. Vuoi sapere da lui come avviene l'avvicinamento a questa realtà, la Mongolia, un paese che è veramente fuori da tutte le traiettorie mediatiche, da tutte le traiettorie giornalistiche, diciamo, principali, cioè un paese di cui ignoriamo praticamente tutto. Quando è che tu ti innamori di questo paese? Allora, prima di tutto devo scusarmi per il mio italiano che con la stanchezza diviene un po' caotico. È già buono, è già buono. La Mongolia arriva come un accidente, nella mia vita e anche nella mia scrittura. Nella mia vita, perché la nostra figlia più giovane ha deciso 15 anni fa, 18 anni fa, di diventare padrina, si dice padrina di un piccolo ragazzo in Mongolia, dunque ha pagato ogni mese 30 euro per sistemare la scuola, tutto questo. Dopo 15 anni ha visto in televisione un reportage su quelle organizzazioni che fanno questo tipo di aiuto. A volte la gestione dei soldi non era così terribile. Allora mi ha chiesto se potrebbe andare in Mongolia per vedere se i soldi sui eravano bene utilizzati. Per questo abbiamo fatto questo viaggio in Mongolia la prima volta in 2008. Questo nella mia parte della vita. Nella scrittura arriva ancora una volta per causa di questa figlia più giovane, che si chiama Zoe, perché io ho sempre scritto da 15 anni fino a quasi 60 anni, durante i 55 anni ho scritto, 45 anni ho scritto, quasi ogni giorno, senza finire qualcosa, mai. Durante i 50 anni ho scritto delle cose ogni giorno senza finire nessuno manoscritto. Però quando aveva avuto 13-14 anni, la mia figlia, gli ho detto da leggere quello che scrivevo ogni giorno. Il lunedì tre pagine di una storia di amore, il martedì due pagine di thriller, il mercoledì altra cosa. E quando lei ha avuto 19 anni ha deciso di partire in Argentina per vivere a Buenos Aires. Io l'ho chiesto se voleva che lo mandasse ancora quello che scrivevo, però con il computer, con il pdf. E lei si è arrabbiata, si è arrabbiata molto, perché mi ha detto che sono quasi cinque anni che io leggo delle cose che non sono mai finite, non conosco la fine delle storie, non conosco il destino dei personaggi. E lei mi ha detto che non leggo più niente fino a che tu finissi qualcosa. E allora come lo può fare un papà con la sua figlia? Ho fatto la sfida, va bene, se lo vuole così lo facciamo. E ho detto, ok, io vado a scrivere due libri all'anno, in un genere differente a ogni libro e con un pseudonimo differente a ogni libro. E abbiamo fatto una lista, saggio, romanzo giovenile, romanzo literario, giallo, saga storica e romanzo societale. E arriva che il primo anno funziona bene. Io scrivo un saggio sui viaggi e un romanzo giovenile, questo è in 2011, e il romanzo giovenile diventa in 2012 premiato dal migliore romanzo giovenile francese. E allora ho continuato, ho fatto le due altre, l'anno dopo ho scritto il romanzo literario che ho finito, ma a questa epoca non era stato pubblicato, però che serve di base a un altro romanzo che ho scritto e che è pubblicato già, che vai a pubblicare anche la Fazi l'anno prossimo, che si chiama Amato Grosso, che è un giallo. E dopo sono arrivato al quarto della lista, che era il giallo, e ho dovuto fare il giallo. Io non ho nessuna cultura di giallo, io non ho mai letto giallo, neanche francese, neanche americano, neanche italiano. Mi sono fermato negli anni 70, perché sono così vecchio, mi sono fermato negli anni 70 ai thriller di Ludlum, Forsythe e Le Carré, niente di più. E allora ho applicato qualcosa che applico io nella mia professione, che sono nella comunicazione. Quando ho una scelta da fare, per essere una buona scelta, la scelta deve essere per me pertinente e inaspettata. Pertinente e inaspettata. Se la scelta è solamente pertinente, è banale. Se la scelta è solamente inaspettata, è fuori soggetto. Però quando le due insieme funziona bene. Per esempio, se tu devi illustrare l'India, puoi usare una foto del palazzo del Taj Mahal. E' pertinente, però è banale. Lo fanno tutti. O puoi usare una foto di un ragazzo che fa le skateboard con il t-shirt McDonald's scritto in Indie, però sarà fuori soggetto. Però se tu puoi scegliere quella foto con questo ragazzo da fronte al Taj Mahal, allora diventa una scelta interessante. Dunque, quando ho dovuto fare questo giallo, mi sono detto, come posso fare per essere pertinente e inaspettato. Pertinente, ho scelto un personaggio che io avevo da quasi 20 anni nei miei vecchi manoscritti, che era di origine italiana, che si chiamava Donnelli, che era un poliziotto di Brooklyn in Nova York. E l'ho preso lui, perché mi piaceva da tanti anni. L'ho preso questo personaggio. E questo personaggio era un po' massio, granitico, un po' minerale. E allora, per la parte inaspettata, mi sono detto che io vado a trovare per questo personaggio un'ambiente inaspettata, però che le corrisponde un'ambiente minerale. E ho cercato nei nostri ricordi di viaggio, quel potrebbe essere questo ambiente. E la scelta c'era Patagonia, Alaska, Islandia e Mongolia. La Patagonia lo fa molto bene un amico mio che si chiama Karil Ferré, che ha scritto due bellissimi gialli sulla Patagonia. A Alaska c'è una tradizione di autori americani che scrivono su Alaska. Islandia, chiaramente, il posto è preso. E allora c'era la Mongolia. E la prima scelta era una scelta che si dice in francese per default, per falta. È diventata solamente una scelta evidente quando ho scritto le due prime pagine. Quando ho capito che quello che era forte nella Mongolia non è la Mongolia, è la cultura sciamanica della Mongolia. Perché nel pensamento sciamanico le cose più forti del giallo, i punti importanti, la morte, la redenzione, la vingenza, tutto questo, nella cultura sciamanica ha un angolo leggermente differente da quello che ha in nostra cultura occidentale. E là ho capito che potrebbe dare al mio personaggio questo angolo un po' differente, questa rugosità un po' differente. È così che è arrivato Yorul Delgado. Per due accidenti, un accidente nella mia vita e un accidente di scrittura. È molto bella questa, ha spiegato la sua poetica e la sua lucidità. E' molto bella poi questa definizione di pertinenza e aspetto inaspettato, diciamo, di elemento inaspettato. Quindi scopriamo che Yorul Delgado in realtà è un italiano, diciamo. Lo scopriamo adesso ed è una cosa simpatica, diciamo. Ed è un commissario che a un certo punto decide un po' di uscire di scena. Però, come spesso accade, non soltanto, soprattutto in letteratura, ma a volte accade anche nella realtà, viene, diciamo, perseguitato dal suo lavoro, diciamo. Continua, gli cadono addosso le storie, no? Ci sono vari personaggi che si rivolgono a lui perché lo aiutino, perché aiutino loro, diciamo, a risolvere una serie di problemi. E sullo sfondo c'è una Mongolia che fa i conti con una serie di delitti, con una serie di morti. Allora, tu hai parlato di paese sciamanico. Queste morti, questa violenza, diciamo, è una violenza che lui incontra, diciamo così, perché è figlia di questa Mongolia o perché è la Mongolia che sta vivendo uno stravolgimento epocale, diciamo. Cioè, sono più figli della Mongolia o sono più figli del mondo che sta, diciamo, mettendo le mani sulla Mongolia? Eh, questa è tutta la storia della trilogia. Per me è chiaro che Yerudelger e la Mongolia sono la stessa cosa. Quando parlo di uno parlo dell'altra, quando parlo dell'altra parlo di Yerudelger. La trilogia è costruita così. Nel primo libro c'è un uomo, Yerudelger, che cerca di sistemarle le cose di oggi, la criminalità di oggi, rispettando la tradizione. E si rende conto che non è possibile, che ogni volta che cerca di farle in armonia con la sua tradizione, deve diventare violento, ogni volta un po' di più. E al fine del libro è un uomo che ha vinto tutto, che è riuscito a risolvere tutti i problemi, però non rispettando la tradizione. E al fine del primo libro è un uomo arrabbiato. Però è arrabbiato perché ha vinto in un modo che non gli piace. Quando tu applica questo al paese è lo stesso. La Mongolia ha vinto, è arrivato a essere un paese emergente, con un'economia, però non con il rispetto della tradizione. Nel secondo libro, dall'inizio alla fine, Yerudelger non è più il protagonista principale. Il protagonista principale è Oyun, la sua assistente, e lui è un uomo che perde i piedi, perché continua a perdersi nella violenza. E allora, nel numero due, è arrabbiato di essere arrabbiato. Ogni volta che è arrabbiato si arrabbia di più. E finisce, come deve finire, finisce con, ancora ha vinto, però questa vittoria è come quella di Pierus, non so se si dice in italiano, per la vittoria ha preso tutto, ha preso la famiglia, ha preso il lavoro, ha preso tutto. E questi due libri li ho scritti insieme, come un solo libro. E questa era la fine prevista di Yerudelger. E questi libri li ho scritti, come dico io, i scrittori devono essere egoisti generosi, generosi, egoisti, perché scriviamo per noi, primo di tutto, e dopo generoso perché lo diamo ai lettori. Allora, questi due libri li ho scritti per me e per lei. Il terzo libro l'ho scritto per Yerudelger e per la Mongolia, per dare alla trilogia una fine differente con un po' di espoir, non so come si dice in espoir, per fare in modo che al fine almeno l'uomo e il suo paese si raggiungino in un modo drammatico, si riunisce in qualcosa, non posso dire in cosa, però è in qualcosa. Però è chiaro che durante tutto il libro Yerudelger è l'incarnazione della Mongolia. E la Mongolia è un anacronismo, è un paese con un encefalogrammo storico piano da quasi mille anni con Genghis Khan fino a 1920 più o meno quando arriva il regime sovietico, tre generazioni di sovietismo e dopo gli anni 90 un capitalismo violentissimo, un capitalismo cinese, che è il capitalismo americano è quasi un socialismo in comparazione, è terribile. E c'è questo paese che sono solamente tre milioni e mezzo di persone, è un paese che ha conquisto la Cina, che ha distrutto Pechino, che ha messo una dinastia sul trono della Cina, che ha conquisto a questa epoca due terzo delle terre conosciute di questa epoca, che ha fatto un massacro terribile, la conquista di Genghis Khan sono 4 milioni di morti, la conquista di quello che sono venuto dopo durante 100 anni è 40 milioni di morti, 43 milioni di morti a un'epoca quando la popolazione mondiale era di 400 milioni di morti e allora se sono 10% della popolazione oggi sarebbe un conflitto di 100 anni con 700 milioni di morti attento a tutte le comparisoni con tutte le percorzioni questo sarebbe una Shoah all'anno durante 100 anni è questo Genghis Khan è chiaro che ha fatto delle altre cose ha fatto delle leggi però è questo questo era il popolo più potente del mondo della storia del mondo in termini di conquista e oggi sono 3 milioni e mezzo gli altri sono 1 miliardo e 700 milioni e la Mongolia è presa tra la Russia e la Cina è un anacronismo non dovrebbe esistire la Mongolia normalmente la Cina ha preso una parte della Mongolia qualche anni fa qualche decine fa ha preso la parte del sud della Mongolia perché non ha preso la parte del nord non si sa quando erano sovietici perché i sovietici non hanno preso quella parte per incorporarlo alla Russia non si sa è veramente una parte ogni due anni c'è un deputato della Mongolia che propose di 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 eliminare le forze armate di Mongolia a che serve pagare dei militari qua se c'è una gara c'è una gara contro la Russia o la Cina è quattro d'ora e basta allora non serve è questo la Mongolia però al stesso momento è una terra sciamanica di nomadismo a me lo che mi piace è il nomadismo forse perché io sono di sono due per cento francese due per cento francese molto francese però di cultura armenia armenia non della cultura armenia di quello che cercano di tornare in armenia io sono di origine di una diaspora e la diaspora mi piace molto la idea della diaspora perché la diaspora è un nomadismo cultural e questo mi piace e allora forse mi piacciono tutte le culture nomade la Mongolia l'Alaska anche con gli Inuit gli indi di Nord America e anche io ho passato quasi un po' più di un anno in Amazonia con gli indi di Amazonia questo mi piace perché noi abbiamo qui una falsa idea del nomadismo qui pensiamo che il nomadismo sono delle persone tranquille che vanno o in un paesaggio magnifico tranquillo no il nomadismo è esattamente il contrario il nomadismo è una tecnica di sopravvivenza in ambiente ostile se non c'è un ambiente ostile non c'è il nomadismo perché non c'è bisogno non c'è bisogno di cambiare ogni giorno di posto e allora è questo che è molto interessante perché questa tecnica di sopravvivenza in ambiente ostile vuol dire che ogni tradizione è un modo di dare le istruzioni per sopravvivere quando tu esci da una yurt la tenda tradizionale c'è sempre qualcuno una donna che viene con una coppa di latte e che metà il dedo nel latte e fa delle gotte alle quattro punte cardinali è una bella tradizione a che serve serve perché quando qualcuno esce dalla yurt per andarsi qualcuno deve sapere in quale direzione è partito perché dopo due o tre giorni si deve sapere se lui non torna si deve cercare in questa parte e allora invece di dire ogni volta che uno esce tu vai a controllare dove va no diciamo che è la tradizione la tradizione vuole che tu che qualcuno vai di là per fare questo gesto perché questo gesto è un senso è sopravvivenza è un tipo di secorso per quello che potrebbe succedersi quello si perde e si non torna per sapere in qual direzione ir a cercarlo è questo che mi piace nella cultura nomada che c'è ogni tradizione ha un significato questo è molto importante diciamo in un'epoca come la nostra in cui il nomadismo viene ridotto a stereotipo diciamo di bassissima propaganda politica e riconosco ai francesi una riflessione molto importante sul concetto di diaspora di nomadismo di è un'epoca questa che ha necessità bisogno di questo tipo di riflessioni filosofiche prima di passare al tema più importante secondo me di questo libro il tema indubbiamente la Mongolia però per me è il tema della morte diciamo ora parlando del nomadismo devo dire che il tuo romanzo è un romanzo nomade nel senso che si attraversano personaggi luoghi in ambiente ostile hai ragione tu il nomadismo non è dato senza senza ostilità diciamo però ascoltando te ascoltando la tua non ho capito esattamente che rapporto hai con la violenza come scrittore intendo ma anche come uomo cioè devo dire la violenza è molto presente in questo libro allora voglio sapere tu come scrittore indubbiamente c'è un elemento di fiction e questo perché tu abbia all'inizio detto di non avere grande dimestichezza con la tradizione del giallo posso crederci e posso non crederci diciamo però la prendo per buona e però quindi c'è sicuramente un elemento di fiction però voglio capire per quale ragione tu che hai voluto tirare fuori diciamo anche quest'anima profonda di un popolo no? perché hai insistito così tanto sulla violenza a cosa ti è servita la violenza? allora per me la violenza mi serve solamente come una tecnica di scrittura la uso solamente quando è necessario per la storia non è è per questo che io non scrivo sui serial killer perché scrivere sui serial killer vuol dire raccontare un crime e dopo un crime un po' più violente e dopo c'è solamente la violenza che interessa nel serial killer io scrivo quando uso la violenza più terribile che è quella del rapito di Ho Yun è la cosa più violente che io ho scritto però mi serve a questa parte del libro perché a questa parte del libro tutto cambia c'è Yehudel Girl che ha sparito per quasi cento pagine e che torna c'è il ragazzo Gontulga che diventa un personaggio forte ci sono i poliziotti corrotti che divengono un po' più corrotti perché uccidono qualcuno c'è tutto questo la tecnica è di prendere il lettore nella violenza per non farlo capire cosa che sto preparando per dopo è solamente una tecnica di scrittura io nella mia vita ho viaggiato tanto alle 6-10 anni ho fatto 40.000 chilometri di autostop negli Stati Uniti ho fatto un viaggio di 27 mesi ho lavorato sulle barche per attraversare l'Atlantico ho passato 13 mesi in Amazonia ho viaggiato molto mai ho incontrato la violenza mai niente non è venuto di me non è venuto di altri ci sono dei modi di viaggiare che ti permettono di non entrare in questa violenza io non sono violento è solamente una tecnica è solamente una tecnica quello che ho capito è che il giallo è solo tecnica solo tecnica per esempio noi diciamo il nero in francese quando non parliamo di nero parliamo di bianca la letteratura bianca nella bianca c'è un autore che espone un sentimento un'idea qualcosa la sviluppa su 300 pagine termina il libro e la dà ai lettori i lettori la accettano o no non è così nel giallo nel giallo è un tipo di convenzione fra i lettori e l'escrittore perché i lettori savano che quello che vuol dire non è vero che non ho fatto tutti questi crimi che neanche non sono stessi e che ogni capitolo è un gioco fra l'autore e il lettore e ognuno cerca di sorprendere l'altro è una tecnica è veramente una tecnica particolare e questo è molto interessante perché molto spesso noi interpretiamo diciamo così il genere giallo come un genere eminentemente realistico eminentemente diciamo mimetico rispetto alla realtà invece tu stai instillando un dubbio che in realtà il giallo è lontanissimo dalla realtà essendo pura tecnica cioè essendo sostanzialmente una come dire uno strumento diciamo narrativo come dire che poi deve portare il lettore da un'altra parte diciamo e quindi questo è molto interessante però dicevo prima della morte poi vorrei tornare sul nomadismo perché mi sembra che questo sia un romanzo sul nomadismo diciamo non mi sembra che sia una allora la morte devo dire in occidente o meglio in questo occidente laico è in gran parte ateo materialista diciamo considera la morte un un altrove muto un blackout il nulla e devo dire che le nostre civiltà hanno pure diciamo anche i nostri paesi hanno conosciuto culture e momenti in cui il confine fra vita e morte non era così netto tu sei in una terra la Calabria che è una delle terre più importanti del sud Italia dove il confine fra vita e morte è stato diciamo indagato da tantissimi etnografi e antropologi proprio perché la morte veniva considerata un momento non di distacco definitivo ma un momento altamente simbolico un momento in cui si contenzavano una serie di aspirazioni di sogni di presenze insomma questa è una terra molto superstiziosa lo è stata molta adesso lo è un po' meno però anche noi abbiamo sperimentato una civiltà nella quale il confine fra vita e morte non era così netto come oggi allora tu che sei un francese molto così molto laico aperto nomade che cosa sei andato a cercare in questa idea antica di morte in Mongolia e soltanto la conoscenza l'esperienza di un esploratore di uno scrittore viaggiatore o hai voluto dire qualcosa diciamo di te e soprattutto della nostra cultura della morte difficili diciamo che ci sono già due cose una prima maniera di rispondere a questa domanda è un po' differente ci sono è la valore della vita la morte può essere definita per rapporto alla valore della vita perché la morte è la persa dalla vita e allora ci sono dei paesi delle culture dove la vita non ha questa importanza fondamentale come in occidente sono paesi un po' più violente o le circondanze l'ambiente sociale politico e anche economico fa che la morte fa parte del quotidiano questo è già un tipo di risposta dopo quello che è molto differente nella Mongolia è il sciamanismo il sciamanismo non è una religione non è una filosofia è un pensamento allora non c'è quella risposta clara c'è una vita dopo non c'è una vita dopo tu crede tu vai al paradiso tu non crede vai a non c'è questo problema la morte è il ritorno a un ciclo il ciclo è il ciclo naturale della terra e si vede molto bene in Mongolia perché i sovietici hanno provato di fare in modo che la cultura nomada ritorna al concetto occidentale hanno cercato di fare mettere i morti nomadi nei cimiteri nei cimiteri sedice e hanno come non le facevano i nomadi hanno cercato di costruire una tradizione intorno di questo hanno immaginato il come si dice il sarcofago il sarcofago hanno immaginato con un fondo verde ripresentando la steppa l'interno blu asur per ripresentare il cielo per convincere i nomadi di mettere i morti in terra come in occidente perché la tradizione di un omadi è completamente differente completamente differente i morti si lasciano tutte queste cose voglio dire noi stiamo facendo una conversazione queste sono cose che le trovate nel romanzo chiaramente raccontare la trama sarebbe stato noioso e banale diciamo anche faticoso perché troppi personaggi troppi nomi troppe cose però tutto questo sentimento del romanzo voi lo trovate poi ecco questo volevo dire noi che stiamo parlando di altro allora i nomadi lasciano i corpi nella steppa lo lasciano così l'unica cosa che a volte fanno è una pietra bianca platta sotto la testa però lo lasciano qua fino che animali lo mangiano fino che il corpo disapparesse si dice disapparesse perché noi siamo qui in occidente nella logica del ricordo la sopravvivenza i morti sopravviventi attraverso il rito della tomba della sepoltura oggi si fanno delle sepolture con la foto del morto anche con la chiave usb che può fare sul telefonino tu puoi vedere la vita di quello che è morto è tutto fatto per il ricordo il pensamento degli nomadi è il contrario il corpo deve desaparecere quanto non esiste più niente del morto allora c'è l'obbligo l'obbligo loro cercano l'obbligo perché quando c'è l'obbligo della persona fisica allora rimane solamente l'esperito di questa persona e come sono nomadi non possono avere un cintiero allora cercano l'obbligo completo e così rimane solamente l'espirito e l'espirito viaggi con i nomadi e dicono che l'espirito si mette dentro della tela della yurt e tutti gli anziani sono qua e questo si capisce quando si capisce il sciamanismo il sciamanismo non è una religione non è una filosofia è solamente un modo di concezione del mondo e la differenza tra il sciamanismo e le nostre culture è molto piccola noi pensiamo che il mondo è un circolo e che noi siamo il centro e quando siamo morti quando dico che noi pensiamo che ognuno di noi pensa di essere il centro del mondo c'è un circolo con miliardi di centri i nomadi hanno lo stesso circolo solo che loro si mettono sul circolo non sono al centro sono al circolo quando muoiono non muoiono niente perché il circolo esiste sempre mi stanco il mio italiano diventa un po' no no è giusto è una come dire una riflessione profonda sull'individualismo sull'individualità sulla devo dire l'occidente ha sviluppato anche una un'eccessiva ma non lo dico come critica lo dico come è stato di fatto un'eccessiva centralità dell'umano un centralismo umanistico che è eccessivo infatti devo dire che l'infilicità aumenta nei popoli dove massimamente è centrale l'uomo la felicità è possibile laddove l'uomo trova quel cerchio quel bordo dove andarsi a mettere dove il cerchio cioè il ciclo è più importante dell'individuo stesso e questo è un grande dramma dell'occidente cioè non riuscire a uscire fuori da questa centralità cioè da questa convinzione per tutti che il mondo sia siamo noi le monde c'est moi per parafrasare diciamo Flaubert io vorrei affrontare ancora due argomenti il primo è sulla Mongolia diciamo sugli interessi economici che ci sono sulla Mongolia e poi vorrei che lui ci raccontasse ci presentasse qui in Italia Yerul Delger cioè che ce lo raccontasse un po' quindi la prima domanda è così essendo questo un festival anche che è soprattutto dedicato ai temi diciamo sociologici più emergenti e quindi è giusto anche che noi oltre a un romanzo riflettiamo su un aspetto diciamo così criminale cioè sulla Mongolia ci sono degli appetiti grossi facci capire qual è la ricchezza vera della Mongolia e chi in questo momento ha interesse a sfruttare questo paese allora diciamo che per l'economia di Mongolia ci sono tre cose c'è le miniere più importanti il turismo e il cashmere sono le tre richiese della della Mongolia sono tre richiese pericolose il turismo può distruggire quello che cerca di incontrare però lo fanno in modo intelligente non per causa di Mongolia oggi sono i sovietici che hanno fatto un sviluppo intelligente del turismo per non mandare i turisti nelle urte delle persone però in piccolo campamento specializzato perché in Mongolia l'ospitalità è un'obbligazione assoluta una famiglia di cinque persone che tiene solamente tre pranzo se tu arrivi con due persone ti danno due per te e quello che rimane per le cinque è un'obbligazione per questo che non si tocca quando entra una urta si tocca quando entra una urta quello di una urta si offenderà perché potrebbe pensare che potrebbe diffusarti di entrare e sarebbe terribile non si bussa mai la urta sarebbe questa tenda l'avrete visti nei documentari che stanno nel deserto del Gobi per esempio sì rotonde dopo c'è le miniere le miniere è una cosa terribile perché sono oro tutto c'è tutto c'è soprattutto quello che si chiama le terre rare le terre rare per i computer e i cellulari le terre rare sono una cosa terribile perché per prendere un chilo di terra si deve arrasare una colina completa e rincerla con miliardi di litri di acqua e di acidi questo lo voglio dire scusate per esempio perché siamo a trame che si combatte una guerra nel mondo per le terre rare io non sono un esperto però diciamo come tanti di voi mi informo e quando noi ci chiediamo i computer e i cellulari di che materiale sono fatti noi spesso abbiamo difficoltà a definire questi materiali sono dei materiali rarissimi ma è anche peggio perché tutte le terre rare che provocano di qua delle catastrofe ecologiche annunziate che sono da venire ancora terribile servono qui solamente a una cosa fare una tecnologia propria propria sì no no non proprio propria propria polita polita tutta la tecnologia polita viene delle terre rare cioè quello che economizza l'energia tutte tutte le le macchine elettrici quelle che fanno l'elettricità con le fotovoltaie pale e oli tutto questo funziona con le terre rare allora qui siamo qui molto contenti di fare una terribologia pulita però con delle terre rare che provocano di qua disastri ecologici questo questo sono per le terre rare dopo c'è l'oro c'è l'uranium c'è tutto ci sono delle cose che tu non puoi anche immaginare c'è una miniera nel sud della Mongolia già profonda di un chilometro che sarà un chilometro e mezzo quando sarà terminato che sarà solamente rentabile durante i quarant'anni rimangono solamente 25 anni qui ha già usato tutta l'acqua necessaria per tutti gli uomini delle tre province del sud e tutti gli animali delle tre province del sud dunque vuol dire che non c'è più acqua per questi uomini e animali ha usato l'acqua superficiale anche l'acqua della Napa Friatica e allora sono già cercando di trovare dell'acqua e di far venire l'acqua del norte della Mongolia fino al sud è chiaro che i fiumi del norte quando arrivano al sud dopo mili chilometri non sono per i umani sono troppo caricati di sal di minerale solamente lo userà la miniere nel stesso momento la parte sud del Gobi avvincia 8 metri al giorno verso l'este e normalmente dovrebbe essere sotto la sabbia del Gobi e Pechin dentro alcuni anni allora i cinesi hanno preparato due pianos veramente te lo dico veramente il primo piano era di sconstruire Pechin piedra a piedra per costruirlo mille chilometri al sud della Cina l'hanno pensato veramente hanno scelto il secondo piano di portare l'acqua dei grandi fiumi del sud fino al norte più di mille chilometri sono passato sotto le montagne sotto le montagne sopra le montagne arriva oggi l'acqua questo per dire cosa che i cinesi e i mongoli su questo problema sono quasi nella stessa logica di portare l'acqua del nord della Mongolia al sud e i cinesi al nord più o meno l'acqua torna nello stesso posto però per portare l'acqua del nord della Mongolia al sud deve ritornare delle fiume che vanno alimentare il Baikal di Siberia e tutta la parte di Russia e i russi non li vedono un buon occhio e qui siamo già all'inizio di una guerra regionale per l'acqua che un giorno ci sarà ci sono tante sull'acqua ci sono tante ci sarà il prossimo conflitto regionale importante sarà per l'acqua però qui siamo già siamo già e questo dunque le miniere è una cosa terribile il tema qui sulle mafie io sono meno io non conosco tanto i problemi delle mafie diciamo che nel mio immaginario è una organizzazione locale che riesce a fare un crime internazionale più o meno siamo esattamente nel contrario le miniere sono delle organizzazioni criminali internazionali che fanno un crime locale su un piccolo paese è l'inverso allora questo può questo secondo sviluppamento economico è anche pericoloso dopo il terzo il terzo è fantastico i nomadi sono una famiglia di 5 o 6 persone una tenda e normalmente 50 animali si dice le gambe lunghe e le gambe corte lunghe sono il cavallo il camelo e gli ac corte sono la cabra e il muton il muton che dà la lana così peccalino una pecora pecora e normalmente la tradizione vuole che il pecora e le cabre sono sempre insieme sono normalmente 10 pecore e 2-3 cabre perché le due animali mangiano l'erba fino alle radici però le cabre sono sempre in movimento e le pecore sono un po' ma si rimangono qua però quando qualcuno si muove seguono allora con tre cabre con le pecore le cabre si vanno e le pecore seguono e così non si distrugge la steppa perché la steppa è molto fragile ci sono 20 centimetri e quando è distrutta la steppa non rinasce diventa un deserto dunque c'era questo equilibrio devuto alla tradizione e un giorno arriva qualcuno che voi conoscete molto bene arriva il signor Benetton e il signor Benetton arriva e si rende conto che il Kashmir della Mongolia è il più bello il Kashmir è solo una poignée di pelle e allora dice Benetton ai nomadi non ti preoccupare per il tuo Kashmir io ti lo compro prima cosa terribile introdurse nella vita dei nomadi la nozione di soldi e la nozione di commerciale questo è già un primo pericolo però dopo dopo due o tre anni il nomado si dice che è più facile di vendere il Kashmir che è fare delle piccole cose per il troc allora dopo due o tre anni non ci sono più le pecore ci sono le cabre però dieci cabre si può ancora vivere in libertà però dopo due o tre anni di più ci sono quattrocento cabre e questo non le può più lasciare in libertà allora c'è un parco e quattrocento cabre dentro di un mese ha distrutto tutta la steppa e il pericolo viene di qua il desequilibrio entre la tradizione e la ecco i tre problemi economici della Mongolia sono quelli tre turismo Kashmir i miniere il più grave è le miniere il più grave immediatamente il più pericoloso per le tradizioni e la sopravvivenza della tradizione nomada è il Kashmir perché cambia le tradizioni cambia perché quando una famiglia ha perso il suo capitale di animali ha perso tutto non c'è un piano B non si può dire io vado a lavorare al McDonald's no non c'è gli animali gli dà tutto da mangiare da bere da vestirsi da trasportarsi anche il calore che usano le merda secche degli animali per il calore il caldo ricaldarsi e allora quando hanno perso tutto cosa possono fare ir a Ulunbator il fad di Ulunbator della capitale della capitale e oggi a Ulunbator c'è 600.000 persone senza niente e qui arriviamo al cinismo totale della della classe politica di Mongolia ha detto il governo che quelli che hanno perso tutto possono venire a Ulunbator e il governo gli dà la proprietà oltre volta il modo di introdurre la nozione di proprietà che non esiste in 700 metri quadrati e questo è la yurt con una palissada di legno intorno e basta niente altri modi di sopravvivere niente lavoro niente soccorso niente è per questo che Ulunbator diventa in inverno la città più polluta del mondo con la polluzione polluzione polluta inquinata del mondo perché sono 600.000 persone che para sopravvivere a un inverno di meno 40 brunano tutto pneumatico gomma tutto e dopo perché ha fatto questo il governo di Ulunbator perché con 600.000 persone potrebbe darlo 20.000 a un piccolo villaggio o altre città per sviluppare altre città no perché Ulunbator è una capitale di un paese emergente che vive con le subvenzioni internazionali dell'FMI dell'UNESCO dell'Europa e tutte queste subvenzioni sono proporzionali alla popolazione allora gli interessano più 600.000 pobresime persone intorno a Ulunbator per ricevere soldi internazionali che chiaro non tornano a quelli povri permettetemi una battuta ricordiamoci di queste sagge lucide intelligentissime parole di Almanuk quando ci spaventiamo perché qualche centinaio di disperati vogliono venire in Italia perché occhi e croce quando andiamo noi all'estero facciamo più danni diciamo lo dico con grande fermezza diciamo non mi importa se qualcuno non è d'accordo non fa nulla diciamo ognuno ha le sue idee però devo dire urlare così tanto perché qualche disperato vuole venire in Italia e poi non sapere quello che noi europei noi italiani noi europei facciamo quando andiamo fuori mi sembra un atto di come dire di ipocrisia e di menzogna diciamo quindi ricordiamoci di queste parole profonde di Almanuk ultima domanda abbiamo veramente due o tre minuti presenteci questo italo mongolo a questo punto perché lui è Geruld Elger non lo so è un mongolo sicuramente ma è anche un po' italiano insomma allora chi è in pochissimi minuti insomma da un punto di vista psicologico e da un punto di vista della sua il suo modo di guardare al crimine e dunque alla Mongolia essendo lui in qualche modo la Mongolia non so se posso rispondere a questa domanda perché quando tu immagini un personaggio quando tu crei un personaggio io scrivo per esempio io scrivo senza piano comincio la prima frase e vado io non mi documento primo mi appoglio solamente sui miei ricordi di viaggio e non mi fermo mai fino alla le cinquecento pagine non torno mai indietro questo vuol dire che i miei personaggi vengono così io non io non ho passato tre o sei mesi da da costruire questo personaggio arriva così e allora mi sorprende anche di più che i lettori perché arriva sulla mia piuma è così per tutti i personaggi per esempio c'è un personaggio importante nella trilogia che si chiama Gantulga è un piccolo ragazzo dice in francese un gavroche quello non doveva esistire è importantissimo nella trilogia però non doveva esistire io stava al fine di un capitolo c'era Oyun che osservava un edificio dove due banditi hanno preso la fila di Oyun del Gara e dovrebbe essere il fine del capitolo perché però io mi piace dire ai lettori quello che conosco del paese e allora ho già parlato di quelle persone che vivono sotto terra per sopravvivere all'inverno e mi rendo conto che c'è anche un altro modo di sopravvivere all'inverno che i ragazzi formano delle bande che vanno vivere nell'entrata dell'edificio allora fino a che c'è Oyun qui che guarda un edificio io faccio scendere Oyun nella sua macchina per andare a parlare con dei ragazzi solamente per dire questo però dopo mi sono un po' così messo nel male perché non mi servono questi ragazzi deve essere deserto questo posto quando scendono i due banditi allora mi devo trovare un modo di far partire questi ragazzi e allora immagino che per farli partire Oyun va a dare un po' di soldi a uno per poter comprare delle cose e per dare i soldi a qualcuno deve entrare in dialogo con uno dei ragazzi e entra in dialogo con uno dei ragazzi e parla questo e ci sono due parole che mi piacciono molto questo ragazzo diventa già quasi un personaggio e dopo due dialoghi diventa un personaggio e allora gli chiede Oyun il suo nome e si chiama Gontulga Gontulga è il nome del ragazzo di cui la mia figlia è la padrina è solo questo allora io gli doi questo nome e esiste Gontulga claro che Gontulga si va e lascia l'entrata a diserto e Oyun torna alla sua macchina e qui c'è un altro modo di scrivere che potrebbe essere la seconda finale di questo capitolo per l'ultima frase dice che indietro di Oyun della sua macchina al secondo o terzo piano c'è qualcosa che si muove e io non so perché lo dico a questo momento però so che mi servirà a qualcosa e duecento pagina dopo io ho un uomo che ha il tatuaggio e mi serve una relazione tra lui e Oyun e questo sarà quello che era nell'appartamento che aveva fatto questo movimento questo non so se mi faccio capire no questo è chiarissimo scusa proprio fa capire proprio questa questa psicologia nomade di Jan Manouk nell'approcciarsi a romanzi anche di architettura complessa diciamo da un punto di vista narrativo quindi noi siamo alla conclusione io ascoltandolo un'ora molto attentamente con grande piacere perché è una persona veramente di grande intelligenza di grande sagacia ma anche di grande saggezza umana noi siamo in una terra la Calabria che avrebbe bisogno anche di uno sguardo di uno scrittore che non è nato qui così come la Mongolia è stata raccontata da te insomma che sei francese sarebbe bello leggere la Calabria vista dagli occhi di uno scrittore così intelligente così umano così capace di empatia di entrare dentro l'anima profonda di un paese onestamente non lo so se sto dicendo una cavolata perché sono stato anche un editore per tanti anni però insomma magari tu ci rifletterai devo dire che siccome ti diverti anche ad attraversare più generi letterari c'è un problema per questo io sono un giovane vecchio autore ho cominciato ad essere pubblicato cinque anni fa oggi sono 70 allora ho un programma di scrittura molto conciso perché voglio scrivere per gli ultimi dieci anni e ci sono tanti progetti però però tu pensaci sulla Calabria sarebbe bello grazie a Manufi grazie Ieruld Elger grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti eccezionale grazie a tutti Dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino.